Bruno Mancini, sabato 4 dicembre, la decima edizione del premio 8 milioni, con una particolarità, si terrà in contemporanea sia a Ischia che a Roma. Sì, è un premio che appunto è nato dieci anni fa circa, grazie all'interessamento del Salvatore Lauro, che l'ha voluto dedicare al padre Agostino Lauro. Da allora abbiamo effettuato queste dieci edizioni in una maniera internazionale, ottenendo dei grossi consensi da vari artisti. Dicevamo la particolarità di questa decima edizione è che si terrà contemporaneamente sia a Ischia che a Roma. Immagino anche per il Covid. Appunto, abbiamo voluto dare la possibilità anche a coloro che non risiedono sull'isola di Ischia di poter intervenire. Mentre negli anni scorsi il premio è stato realizzato, la cerimonia di premiazione, o meglio dire, è stata realizzata a Book City a Milano. Negli ultimi quattro anni siamo stati al MUTEC, alla SIAM, in locali prestigiosi di Milano. Ovviamente c'erano dei problemi proprio per il Covid, quindi quest'anno abbiamo inteso sdoppiare la location. Una parte a Roma, da Chiara Pavoni, che ha uno splendido locale, si chiama Interno 4, al centro di Roma, e un'altra parte qui alla Biblioteca Antoniana. Sarà un'edizione un po' diversa rispetto alle altre, in quanto si farà anche un resoconto delle precedenti edizioni con dei premi specifici. Sì, in questo anno abbiamo voluto dare un riconoscimento a molte persone, tra cui appunto il qui presente e gradidissimo amico Gennaro Saio, per tutta la collaborazione che hanno prestato per far sì che questo premio durante questi dieci anni abbia avuto una risonanza a livello se non altro nazionale che noi apprezziamo molto. Penso che questo premio ha delle specificità in Italia, in quanto è l'unico che non ha nessuna tassa di iscrizione, è l'unico che si sviluppa su sei sezioni, è l'unico che non ha mai avuto un euro di contributo pubblico, tanto per dimmi alcune. In dieci anni sono stati tanti i premiati, non solo artisti italiani, ma anche a livello internazionale. Sì, siamo arrivati praticamente a superare la quota di 50 nazioni partecipanti ai nostri eventi, ai nostri premi e di 500-600 iscritti praticamente. Una bella soddisfazione? Progetti per il futuro? A continuare su questa base, sempre con la serietà, con la tranquillità e con la disponibilità degli amici che ci danno un supporto se non altro di carattere morale, perché ovviamente è tutto su base volontaria. A noi ci sono decine e decine di associazioni sparse in Italia, alcune anche all'estero, tipo Ada di Dalia Bucalfa che in Algeria riceve il consenso da parte dell'Università di Blida, in Lettonia con l'Igara Pisca. E quindi è piuttosto importante a livello internazionale il lavoro che stiamo facendo e desideriamo continuare a farlo così, con queste stesse regole e queste stesse segretà.